ciao amici di scripta manent mi presento sono cristian tomasi e anche io col mio canale youtube runner dai primi passi voglio dare un contributo mettiamola così al vostro canale e io mi occupo di corsa di running sono diventato ultimamente in quest'ultimo anno un ultra maratonetta quindi ultra maratonetta partecipo a maratone oltre i 42 km dovevo partecipare alla 100 km di di firenze il passatore firenze faenza e invece questo coronavirus diciamo ci ha abbastanza limitato io voglio rispondere subito alla domanda che mi si fa spesso e volentieri in questo momento cristian ma scusa pena pena come fai ad allenarti e a continuare a essere concentrato nel tuo allenamento correndo in due in 200 metri come ti ho visto fare nell'ultimo video bisogna avere un obiettivo e ciò che fai ti deve piacere non ci sono altre alternative se noi amiamo una cosa la facciamo con passione che può essere la corsa che può essere la camminata non ci sono non ci sono dei limiti i limiti li abbiamo solamente nei nostri pensieri e nella nostra testa e poi che dire queste corse che si fanno in casa diciamo che ogni tanto portano anche delle piccole soddisfazioni anche perché ci accontentiamo di una piccola soddisfazione la mia ultima soddisfazione è questa e la faccio vedere con orgoglio perché sono state corse virtuali 17 miglia vi spiego anche il perché mi è stata inviata questa maglietta dall'america è una corsa e una maratona che viene fatta dai marines e io me la sono guadagnata correndola in casa nel mio giardino ecco qua questa è la maglia eccola ora vi faccio vedere anche la medaglia e sono quelle piccole soddisfazioni che fa bene al cuore fa bene alla testa ecco il perché e questa invece è la medaglia che mi è stata data bellissima medaglia e sono orgoglioso di praticamente condividere questa cosa insieme al gruppo di scripta manet a me non mi resta altro che salutarvi ricordarvi di venire a visitare il mio canale youtube per chi fosse appassionato dello sport in generale o chi fosse curioso delle mie recensioni e compagnia cantante un saluto a scripta manet dal vostro runner dai primi passi cristian tommasi ciao 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 ciao